Mia moglie, sua moglie, me la saluti? Certo, si è fissata che vuole farmi iscrivere in palestra e quindi avrei bisogno di un certificato di sana e robusta costituzione Sua moglie ha ragione, alla sua età è importantissimo fare esercizio fisico per la prevenzione di molte malattie A proposito, è da un po' di tempo che non fa le analisi del sangue, vero? Sì, vabbè, ma... Ha mai fatto un controllo alla prostata? Perché? Bisogna capire come sta Io? Bene, grazie No, intendevo come sta la sua prostata Con il passare del tempo può ingrossarsi e provocare dei problemi come ad esempio difficoltà ad urinare o al contrario la necessità di farlo in continuazione No, sto bene, dottore, grazie Non lo metto in dubbio E tuttavia le consiglierei di fare il dosaggio del PSA Il PSA L'antigene prostatico specifico Pericoloso? No, sono semplici analisi del sangue Però in caso di tumore della prostata Il PSA nel sangue aumenta in modo anomalo nel tempo Per questo è importantissimo da controllare Per di più, ne ha più di 50 anni Portati bene E ha dei precedenti in famiglia, se non ricordo male Sì, ma... Sono dei fattori di rischio Rischio? Sì, ma non si preoccupi Se il valore del PSA dovesse essere alto Approfondirà con uno specialista urologo Se diagnosticato precocemente Il tumore può essere trattato con delle terapie davvero efficaci Capito? Ma non dica quella parola Quale? Quella è la lodonumore Che c'è l'ultimo Eh? Era un... Muore Guardi che è una parola come un'altra No, è brutta Tumore Non poteva chiamarsi tu vive Così per dare un po' di speranza almeno Allora, prima di parlare di tumore Cominciamo col fare delle belle analisi del sangue E ci mettiamo anche il dosaggio Nel PSA Ok? Ecco qui Roma A lei Insomma, devo fare queste analisi Una salute importante E poi non credo che le voglia far rimanere vedua sua moglie Che è sempre una bella donna Ehi Dio, questa ricetta Che guardi? Cerco informazioni sulla prostata C'è prostataperte.it Il dottore mi ha prescritto delle analisi del sangue E voglio saperne di più L'informazione è importante Curarsi da soli con elisi interplanetari? Sì, sono fatti a base di alcol e bicarbonato di sodio Ai quali poi si aggiungono le varie... Senti, MacGyver, non ti viene il dubbio che non siano fonti del tutto attendibili? Dici? Eh, se vuoi informarti cerca sui siti di società scientifiche Oppure se hai qualche dubbio chiama il tuo dottore È un uomo così simpatico, preparato, rassicurante, colto Vuoi che ti accompagno? Dal dottore? Ehi No, non c'è bisogno Ti ho mai detto quanto sei bella? Dici?